Arriva dunque finalmente anche per noi la possibilità di andare a recensire questo fantastico prodotto abbiamo OnePlus One nella versione nera da 64 GB un telefono davvero davvero completissimo telefono che devo dire a primo impatto mi è sembrato davvero un ottimo device un dispositivo dalla costruzione un po' particolare visto anche questo retro sembra quasi proprio pietra pomici l'effetto ruvido, l'effetto devo dire anche molto buono come grip all'interno di questo OnePlus dona a questo dispositivo un qualcosa in più sicuramente molto più bella la colorazione nera rispetto alla bianca anche per i 64 GB di memoria a bordo il telefono ha costruito almeno questo modello che ho io in test molto molto bene, non ci sono problemi di costruzione l'unico forse neo di questo OnePlus mio è come potete vedere questo pezzettino di collante che sta all'infuori chiaramente basterà un paio di forbici per andare ad eliminare il tutto io adesso non ho voluto toccare assolutamente niente perché questo è un dispositivo che ci è stato gentilmente in prestato andiamo dunque ad accendere questo OnePlus le caratteristiche ormai le conoscete veramente tutte abbiamo Android a bordo KitKat 4.4.2 in versione Sayano 11S proprio la versione studiata per questo OnePlus abbiamo uno Snapdragon 801 da 2.5 GHz quad core, un Adreno 330, 3 GB di RAM che fanno girare questo dispositivo in maniera eccezionale 5.5 pollici di display un Full HD da 401 ppi un IPS LCD con Gorilla Glass 3 tecnologia Gorilla Glass ottimo anche per quanto riguarda la resistenza per questo vetro questo è un dispositivo che l'unica cosa che non mi ha fatto assolutamente impazzire è questa costruzione ora vediamo se il nostro buon Fido M8 ci mette a fuoco come potete vedere il vetro di questo OnePlus è leggermente rialzato rispetto alla cornice questo fa sì di avere un effetto bello anche a vedere ma non so quanto duraturo nel tempo o meglio se ci cadrà questo OnePlus vi posso assicurare che voleranno discrete discrete chiamiamole un po' non so nemmeno dire bene come allora per quanto riguarda l'interfaccia abbiamo appunto Android KitKat 4.4.2 letteralmente ricostruito o meglio personalizzato per questo OnePlus come potete vedere già abbiamo il doppio tap che funziona molto molto bene abbiamo questo schermata di sblocco molto bella che abbiamo anche la percentuale batteria nonché anche l'animazione del meteo che ci dice la temperatura OnePlus si sviluppa con il lancer stock come potete vedere è il classico che troviamo anche sul Nexus 5 Nexus 5 che poi andremo a contrastare dopo contro questo OnePlus questo è un telefono che costa 299€ quindi il prezzo non è assolutamente alto anzi per carità un display molto riflettente come potete vedere c'è il mio M8 oro c'è questa lampada c'è un display che riflette veramente tantissimo e questo è uno dei punti leggermente deboli per questo OnePlus soprattutto quando andiamo contro la luce del sole display che ha il sensore di luminosità che fa un po' fatica ad alzarsi anche all'esterno quindi un display che insomma un sensore di luminosità che va un attimino rivisto per quanto riguarda i bianchi fantastici non ho trovato nessun tipo di problema nell'andare a vedere i contenuti su questo display entriamo nel cuore delle impostazioni e ce ne sono veramente tantissime come avviene per la Sayano qui possiamo personalizzare veramente il tutto attraverso questo menu di personalizzazione abbiamo anche i temi come potete vedere possiamo scegliere cosa cambiare se ad esempio andiamo nel pacchetto dei temi per esempio andiamo a mettere un tema per quanto riguarda Android L come potete vedere si può veramente cambiare tutto andiamo a far ripartire la nostra home screen come potete vedere ci sono le iconcine in stile Android L anche la barra qui sopra abbiamo anche tutta l'interfaccia che appunto è cambiata se torniamo nel menu delle impostazioni come potete vedere abbiamo un nuovo layout attraverso l'interfaccia possiamo andare a cambiare veramente tutto abbiamo la possibilità anche di mettere il desktop esteso e quindi anche di andare a disattivare o attivare questi tasti soft touch che abbiamo qui in basso questi tastini si vedono veramente niente quando siamo appunto all'aperto come potete vedere faccio quasi fatica ad andare a farvi vedere questi tasti soft touch è un peccato perché cioè va bene che costa poco però insomma ci si perde con niente all'interno di questo OnePlus quindi torniamo indietro ci si fa chiaramente l'abitudine perché qui nel mezzo abbiamo il tasto home tasto dell'applicazione aperte se andiamo a schiacciarlo più a lungo e chiaramente tasto back comunque all'interno dell'interfaccia potete andare tranquillamente a cambiare qualsiasi cosa dall'icone della barra di stato se vogliamo la batteria in un modo se vogliamo nascondere qualcosa cioè questo è un telefono che chi lo compra sa benissimo che deve personalizzarlo al 100% per quanto riguarda anche la possibilità di abbiamo il touch and pay come chiaramente abbiamo su Android KitKat abbiamo l'account Sayano abbiamo la possibilità di andare ad aggiornare questo dispositivo continuamente con tutti i vari update che il team Sayano andrà sicuramente a fare hanno promesso Android L dopo 90 giorni dall'uscita di quello ufficiale per quanto riguarda chiaramente Nexus 5 uno dei punti a favore di questo OnePlus ora vabbè l'ho rimesso un attimino in carica comunque è senza ombre di dubbio la durata della batteria per quanto riguarda appunto il telefono con questo dispositivo andate tranquilli che una giornata ma che lo usa in maniera molto blanda anche due giorni tranquilli tranquilli di utilizzo saranno garantiti con appunto OnePlus quindi impostazioni molto molto ricche launcher che non mi fa impazzire perché sono queste icone veramente troppo grandi rispetto anche alla bellezza di questo 5.5 pollici parliamo un attimino di multimedialità andiamo ad aprire la fotocamera perché abbiamo una bellissima fotocamera da 13 megapixel per quanto riguarda gli scatti fotografici con anche la possibilità di andare ad attivare l'HDR nonché anche la possibilità di andare a scegliere la dimensione dei pixel, la qualità, la messa a fuoco ci sono tante impostazioni anche per quanto riguarda i video video che vengono girate addirittura fino al 4K quindi abbiamo una risoluzione pazzesca per questo OnePlus grazie anche al suo buonissimo processore quindi fotocamera che scatta foto molto buone abbiamo la fotocamera frontale da 5 megapixel per quanto riguarda selfie abbiamo anche la possibilità di andare a scattare foto panoramiche direi che per quanto riguarda la fotocamera assolutamente promosso questo OnePlus perché l'abbiamo provato anche ieri insomma le foto vengono scattate in maniera molto molto valida vi faccio vedere anche la galleria galleria completamente personalizzata dal team Sayano galleria che devo dire molto molto fluida anche ad andare ad aprire contenuti questa è una foto scattata a 5 megapixel con la fotocamera frontale quindi ottime foto davvero divertente andare in giro con questo OnePlus in tasca si sente ma neanche troppo visto anche il peso e la leggerezza questa è una foto scattata con i miei amici di quelli che telefonano .it come potete vedere con poca luce senza flash né nulla foto discrete ora a parte i soggetti comunque foto molto valide un'altra chicca è senza ombra di dubbio l'audio audio di questo OnePlus che mi ha stupito mi ha stupito per la sua potenza forse un attimino troppo alto come audio però devo dire la qualità si sente e come andiamo a far partire una canzone della nostra playlist su spotify non avete nessun tipo di problema nell'andare a riprodurre in tanti posti suoni preferiti le vostre mp3 ma soprattutto non avete problema e questo vuol dire tanto nel perdere nessun tipo di notifica perché suona in maniera incredibile ieri l'avevo in tasca e ero dentro il bar abbastanza fruscio di sottofondo ho sentito perfettamente una notifica di questo OnePlus dialer è il classico appunto di il team Sayano insomma di android kitkat puro che abbiamo anche sul nexus dialer che chiaramente si aggiornerà con la futura versione per questo telefono l'interfaccia è la solita la conoscete tutta magari Nova Lancer vi permetterà al meglio di andare a personalizzare il vostro dispositivo entriamo subito nel browser che è uno dei punti critici per tantissime persone il browser di default è Chrome Chrome che però gira in maniera molto valida molto buona come potete vedere non ci sono nessun tipo di impuntamento doppio tap funziona molto bene non abbiamo chiaramente le size della colonna se andiamo a zoomare come avviene sull'HTC però come potete vedere anche il testo si legge molto molto bene Repubblica uno dei siti più pesi e devo dire che si muove con molta scioltezza questo One Pass grazie anche ai 3 giga di RAM un telefono che consiglierei ma sicuramente un telefono da 299 euro la versione da 64 giga non gli manca niente per stare all'interno dei top di gamma un telefono che a 299 euro offre il top per quanto riguarda Android Stock il top perché abbiamo tutto abbiamo la possibilità di personalizzare abbiamo la possibilità di andare a mettere ROM Custom attraverso il root abbiamo la possibilità di godere appieno di tutta la potenza che secondo me è mancata Nexus 5 questa è l'evoluzione del Nexus 5 un dispositivo secondo me è valido perché ama Android Stock assolutamente da comprare perché a 299 euro non trovate niente di tutto ciò sul mercato se vi manca qualcosa come ad esempio l'audio leggermente basso per quanto riguarda l'audio in capsula potete anche dire ma ho tante altre cose che magari mi fanno anche strizzare l'occhio a questo OnePlus un dispositivo dal design davvero accattivante dal retro secondo me è bellissimo per quanto riguarda questa colorazione forse la pietra dopo un po' si andrà a consumare un saluto da Guerz86 passare un saluto da però passare da passare passare